In un servizio precedente avevamo dato voce agli zingari di Piandanna che lamentavano l'assenza delle istituzioni e la mancata assistenza per cibo e presidi sanitari. La replica dell'assessore ai servizi sociali del Comune, Antonello Sasso. Colgo l'occasione per ringraziare la Protezione Civile che in collaborazione con l'assessorata alle politiche sociali ha organizzato una rete di assistenza per tutte quelle famiglie che in questo momento di grosse difficoltà a causa del coronavirus chiedono all'amministrazione comunale la possibilità di ricevere dei viveri. Grazie appunto alla Protezione Civile e alle associazioni di volontariato queste famiglie ricevono sia i pasti caldi quotidianamente oppure ricevono direttamente i viveri nelle proprie abitazioni. Abbiamo pensato anche alla comunità della Roma naturalmente e per ben due volte questa settimana hanno ricevuto grazie davvero al sostegno delle associazioni di volontariato i viveri necessari per tutti i componenti delle famiglie.